Un viaggio musicale alla ricerca dell'essenza nella confusione della modernità, un rapimento mistico e sensuale. È stato così un grande omaggio al maestro Franco Battiato, quello di Simone Cristi e Amara, che in una piazza masaccio sold out hanno proposto lo spettacolo Torneremo Ancora. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, buonasera a tutti. Nasce da una visione comune, ovviamente di vita, ma soprattutto dall'amore devoto per questo uomo che oltre ad essere un grande artista è stato veramente un maestro di vita e quindi ci siamo trovati su questa visione e abbiamo deciso di portare in scena la sua parte più elevata che ha lasciato così in scrittura nelle canzoni. Un'esperienza molto profonda, questo concerto che coinvolge il pubblico in una sorta di cerimoniale liturgico. Si va a toccare insomma la profondità, la sacralità della musica qui. Non è un'intenzione di intrattenere il pubblico ma di renderlo partecipe di qualcosa di unico. Ecco perché a questo concerto poi le persone ritornano anche più volte a vederlo e quindi la difficoltà sta nel riuscire a trasmettere poi questi messaggi così profondi che Battiato ci ha lasciato in eredità e che noi con grande umiltà cerchiamo di portare avanti. Grazie. Grazie. Grazie.